Dopo Galaxy A25 oggi è il turno di questo giallissimo Galaxy A15, scendiamo negli inferi dei base gamma Samsung e scopriamo cosa c'è di interessante, ma come avrete capito dal titolo questo smartphone ha principalmente un'arma letale, chiamiamola così almeno per i suoi concorrenti, scopritelo nella nostra recensione, se non l'avete mai fatto iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e seguiteci nel nostro canale esclusivo di Whatsapp. Non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing, purtroppo lo vedete, anche questa confezione è super sottile, si può dire che Samsung ha contagiato anche la fascia bassa con la sua tirchiosità, perché? Perché all'interno troviamo solo il cavo USB-C, USB-C, la manalistica e, per fortuna, grazie a Dio, lo smartphone. Smartphone che, se lo guardiamo così, soprattutto in questa colorazione gialla, diciamocelo, sembra uno smartphone di fascia superiore. E tra l'altro voglio anche fare un po' di polemica, perché sì, bello è il color titanio dell'S24 Ultra, ma perché non si dà un po' di colore, un po' di vividezza, un po' di estro, se così vogliamo dire, anche alle fasce alte degli smartphone? Cara Samsung, ma in realtà è una critica che va un po' a tutti, perché non è che Apple e compagnia bella facciano i top di gamma di chissà quel colore, che colori stravaganti o particolarmente belli. Quindi, per me, questo Galaxy A15 ha qualcosa di meglio dei premium phone di 1500 oltre euro. Ed eccolo qui, quindi, Galaxy A15 in questa colorazione gialla, veramente molto bella. Questi riflessi che vedete li fa, questi cangianti, li fa davvero nella quotidianità, veramente un bel colore, molto brillante. Se voglio essere sincero, anche più brillante di quello che secondo me viene in camera, sembra quasi veramente quello della confezione. È interamente in plastica, trattiene forse leggermente le impronte, ma si vede solo contro luce. Durante l'uso quotidiano io, veramente, non l'ho mai pulito. È veramente molto bella questa finitura e, soprattutto, sembra di avere in mano uno smartphone di fascia decisamente superiore. È tutta plastica, ma questo sembra vetro. Il profilo è interamente in plastica, con questa nuova isola appena appena sporgente, che contiene il tasto di accensione con lettore di impronte digitali e bilanciere del volume, che è una novità di design dei modelli di questo 2024, fine 2023. Secondo microfono, carellino doppia nano sim o nano sim più micro SD, sotto la porta USB-C speaker microfono e jack audio da 3,5 mm. Pesa 200 grammi, è leggero ma non leggerissimo, dimensioni 160,1 x 76,8 x 8,4 mm di spessore. Il pregio, secondo me, di questo smartphone, che non è impermeabile, ma in questa fascia ci sta, è, secondo me, quello di guardarlo, ma anche una volta che l'avete preso in mano, di sembrare veramente, in tutto e per tutto, uno smartphone Samsung di fascia, non dico leggermente superiore, ma anche molto superiore. E questo è un bel pregio, perché, secondo me, i smartphone in questa fascia di prezzo hanno proprio quella cosa lì, che li prendi in mano e capisci subito che sono smartphone economici. E può anche andare bene, ma sul lungo periodo fa un po' tristezza, diciamocelo. Curiosità, autopromozionale, questo non è un anello che io sto usando per estetica, ma è il primo smart ring che sto provando, quindi iscrivetevi al canale e seguiteci anche su WhatsApp, trovate tutti i link in descrizione. È ovviamente un base gamma, quindi la sua scheda tecnica, non vi dico che vi deluderà, magari non vi deluderà, ma di sicuro non vi ecciterà particolarmente. Per parlarvi di scheda tecnica, metto lo smartphone qui da parte, abbiamo il processore Mediatek Helio G99 a 6nm Octa-Core da 2.2 GHz, che è un buon aggiornamento rispetto al processore dello scorso anno, Mali-G57 MC2.4, purtroppo soli gigabyte di RAM, 128 GB di memoria interna, espandibili, come vi ho detto già, tramite microSD, nel caso rinunciando però a una delle due nano SIM, non c'è supporto SIM virtuale. connettività 4G, c'è anche un A15 5G che costa, non mi ricordo se 20 o 40 euro in più, Wi-Fi AC Bluetooth 5.3, c'è il chip NFC, c'è il jack audio da 3,5 mm, il lettore di impronte digitali sul fianco che è preciso, non velocissimo, questo va detto, e una vibrazione che, devo essere sincero, è un po', un po' così, insomma, è un po' da smartphone economico, ecco, da quello si capisce che è uno smartphone economico. Altra segnalazione, il sensore di prossimità è virtuale, questo vuol dire che io in chiamata non ho avuto nessun problema, neanche con i vocali sempre, qualche volta, un paio di volte, come avevo già segnalato su A25 se non sbaglio, sì, qualche vocale che per una frazione di secondo passa in viva voce e poi torna in capsula auricolare, questo purtroppo è il contro di avere una capsula virtuale per quanto riguarda la prossimità. Bello upgrade di Samsung per il display di questo Galaxy A15 rispetto all'A14 che abbiamo provato solo poche settimane fa. Il display riceve un bel aggiornamento, è un 6.5 pollici di diagonale, full HD+, 1080x2340 pixel, adesso in tecnologia AMOLED, bella novità, veramente bella novità perché l'A14 invece è ancora fermo allo schermo IPS. Se andiamo qui troviamo l'uniformità di movimento alta, che ci fa vedere che il refresh rate del display è aumentato a 90%, lo schermo all'uniformità di picco di 800 nit, che devo dire non è male per uno smartphone di questa fascia, ci avvisa anche appunto che forse stiamo anche un po' esagerando. L'unica cosa strana, se vogliamo, secondo me questa è una scelta volontaria per differenziare lo smartphone dagli smartphone di fascia superiore, non c'è nessun always on display nonostante sia un display AMOLED, questo è un po' un peccato. Il display è veramente fantastico, da smartphone di fascia media si capisce che è un fascia bassa da una cosa, le cornici attorno a questo display, guardate qua il mento, insomma, su questa parte qui, sulla parte di ottimizzazione dei bordi, ecco, è un po' lì che casca l'asino se vogliamo, è un po' la cosa che distingue questo Galaxy A15 dagli altri Galaxy di fascia leggermente superiore. Ed è arrivato il momento di rivelarvi la sua arma segreta, perché questo Galaxy A15 è uno dei primissimi Galaxy A a entrare all'interno di una nuova politica di aggiornamenti dell'azienda. Già il Galaxy A14 lo scorso anno riceverà due versioni Android e tre, anzi forse quattro anni di patch di sicurezza, qui l'azienda si è sdata, perché questo Galaxy A15 riceverà cinque anni di patch di sicurezza e quattro versioni di Android. Questa è veramente una cosa incredibile, veramente notevolissima. Qui abbiamo già Android 14, tra l'altro, con patch di novembre 2023 e One UI 6.1. Le patch di novembre 2023 ci sta, perché all'interno di questi aggiornamenti Samsung ha dichiarato che ce ne sarà uno per trimestre, quindi sostanzialmente nel 2024 ci si aspetta un aggiornamento entro marzo. Quindi ogni trimestre un aggiornamento e quattro versioni di Android, che è qualcosa di stupefacente. In questa fascia di prezzo, spesso la concorrenza a malapena vi dà un aggiornamento di versione, se non zero del tutto. È giusto qualche patch di sicurezza. Che fino a un po' di tempo fa era anche accettabile, ma ora che ci sono questi nuovi smartphone Galaxy A in circolazione, cambia tutto. Perché? Perché si spende poco, ma vi portate a casa uno smartphone che può durare comunque tanto dal punto di vista appunto del supporto. E quindi vi ho parlato un po' dell'arma segreta di questo smartphone. Il software è Android 14, ve l'ho detto, la personalizzazione della One UI 6.1 è quella che conosciamo, quindi quella con la bar laterale che ci permette di aprire le app in finestra, con le impostazioni che ci permettono di andare a affiancare due applicazioni, anche se l'applicazione non lo supporta. Per esempio Instagram, lo sappiamo, è un po', diciamo, sembra quasi fatto su misura, è un po' quella funzione che, diciamo, è con in testa Instagram perché sappiamo che Instagram appunto non supporta la divisione in schermo in due e invece Samsung riesce a forzarla. C'è poi la modalità ad una mano, ops, la modalità ad una mano che si attiva così, si può anche spostare sull'altro lato, si può ridimensionare se vogliamo questa finestra, tappando qui torna istantaneamente full. Le finestre che possiamo appunto aprirle anche con questo gesto, quindi quando la finestra è aperta, se l'avete abilitato, no, l'ho disabilitato, vabbè, si può prendere l'angolino e mettere le app in finestra. Insomma, le impostazioni, diciamo, tra virgolette avanzate della One UI a cui siamo abituati, oltre alla possibilità di applicare la tavolozza colore Android o ancora di più applicare i temi, mi farà accettare appunto i Galaxy Team perché io non l'ho fatto, perché non mi interessa, ma insomma la One UI rimane una delle interfacce con più livelli di personalizzazione. Avete visto una cosa, avete visto la gommosità di questo software, ora sta caricando probabilmente la connessione Wi-Fi, in questo momento non sta dando il meglio, vedete che quando usciamo l'animazione ha sempre un po' quella gommosità anche quando andiamo nel multitasking, però lo vedete, non è drasticamente lento, non è uno smartphone che appunto è terribile da questo punto di vista. Vedete anche qui, riesco a scrivere abbastanza velocemente, mi apri i risultati, passo da una finestra all'altra, faccio così, salto da un'app all'altra, posso anche fare così lateralmente, insomma non è drammatica la situazione. Certo, se siete impazienti, questo non è lo smartphone che fa per voi, ma fa tutto, lo fa tutto sommato in tempi ragionevoli, ma soprattutto si aggiorna tantissimo, in questa fascia praticamente quasi all'infinito se così vogliamo. Le fotocamere sul retro di questo Galaxy A15 sono tre, ma solo una è quella valida, la 50 megapixel f1.8, la secondaria è una 5 megapixel grandangolare f2.2, ma 5 megapixel ve lo dico, sono pochi, e sono pochissimi i 2 megapixel della fotocamera macro che non voglio neanche commentare. La fotocamera nel gocci, qui all'interno del display, è invece una tutto sommato discreta 13 megapixel f2.0. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere l'interfaccia di scatto, ecco in termini di prestazioni forse nella fotocamera è dove lo smartphone è un pelino più lento. C'è il tasto per andare alla grandangolare, vedete ci mette una frazione di secondo, c'è anche il 2x che è un ritaglio della fotocamera a 50 megapixel, non c'è assolutamente uno zoom ottico e poi tutte le altre impostazioni, l'ho già detto. Non sopporto questa cosa che quando si tappa sullo zoom qui sparisce tutto, perché poi devo fare tap qui per tornare a tutte le modalità. Ritratto, divertimento, video e in altro queste altre funzionalità, fra cui la modalità notte con cui ho fatto qualche scatto. Come vengono le foto da questo smartphone? Le foto sono diciamo assolutamente all'interno delle aspettative, ovvero con buona luce questo smartphone fa decisamente meglio rispetto a praticamente tutti i suoi concorrenti. Le immagini sono nitide, una buona riproduzione dei colori, una buona messa a fuoco, sono proprio delle belle foto, delle belle foto gradevoli da condividere sui social, ma anche da tenere come ricordo per il futuro. La grandangolare veramente è un no, perché questi 5 megapixel, già le 8 megapixel grandangolari di solito sono deludenti, immaginatevi la 5 megapixel, anzi non dovete immaginarvelo, guardate le foto che vi sto mostrando, non ci siamo. La fotocamera frontale è ok secondo me per la fascia di prezzo, con luce intermedia si vede un po' di difficoltà nel gestire le luci, magari c'era una foto di un bar con la luce del bancone oppure delle lanterne, insomma si poteva fare meglio, ma non in questa fascia di prezzo secondo me, con poca luce invece devo dire veramente poca cosa, veramente poca cosa e anche la modalità notturna sinceramente non mi sembra proprio che lo salvi. Peccato per i video in Full HD 30 che sono con pochi dettagli, è un Full HD, non è un 4K, ma soprattutto tremolanti. Ecco, sulla parte di registrazione video si poteva e forse anche si doveva fare un po' di più. Ed eccoci qua in War Thunder Mobile, perché? Perché è interessante vedere come nonostante tutto, nonostante questo sia uno degli smartphone diciamo nella fascia più bassa degli smartphone in assoluto, questo comunque riesca a gestire un gioco diciamo complicato come questo, certo impostando i dettagli a livello minimo, no scusate, non minimo ma medio, quindi già questo mi sembra comunque tutto sommato un discreto risultato, là sotto c'è un sottomarino che si sta nascondendo, però devo dire è veramente un gioco comunque non leggero e questo smartphone riesce comunque con appena un po' di riscaldamento, devo dire non diventa mai caldissimo, ma è anche vero appunto che stiamo giocando con dettagli medi, si riesce comunque a giocare appunto a un gioco un pochino più complicato come War Thunder, quindi per come la vedo io, qui sto venendo massacrato in questo momento, si riesce comunque a fare una sessione di gioco gradevole, io l'ho fatta una tranquillamente fino alla fine senza veramente nessun problema. Usciamo di botto, avete anche sentito l'audio anche se non era al massimo del volume, l'audio al massimo volume ha una buona pressione sonora, cioè un buon volume, la qualità devo dire sotto tono invece. Batteria 5000 mAh, bene devo dire per uno smartphone del genere e con questo processore che come potete immaginare non è che consumi tantissimo, si riesce senza veramente difficoltà ad arrivare a due giorni di autonomia con un utilizzo medio, medio blando senza veramente nessun problema e tra l'altro è stata aggiornata la velocità di ricarica che ora è a 25 Watt, certo dovete comprarvi un caricabatterie perché qui non c'è, ma 25 Watt è anche la carica diciamo di molti smartphone di fascia media e medio alta di Samsung e devo dire per la fascia di prezzo anche qui veramente ci sta. E siamo quindi alle conclusioni, questo era Samsung Galaxy A15, vi manca da scoprire il prezzo, mi manca da dirvelo questo prezzo, 199 euro di listino che sono un po' tantini però vabbè diciamo che per quello che vi dà il display, le fotocamere, gli aggiornamenti ci può anche stare, ma non sono proprio pochi, ma come potete immaginarvi si trova già a decisamente meno, nello specifico poco più di 160 euro, trovate il link in descrizione oppure sul nostro sito, un prezzo veramente interessante per uno smartphone che già aveva i suoi punti di forza, quindi il design, la qualità costruttiva, il display, le fotocamere e i suoi classici punti di debolezza, quindi un software un po' gommoso, solo 4 giga di RAM, delle cornice del display diciamo non proprio ben ottimizzate, ma quest'anno gli aggiornamenti sono la vera arma di questo smartphone che praticamente in un colpo solo mette molto in difficoltà i concorrenti. Poi questo non vuol dire che questo è lo smartphone perfetto per voi, ma bisogna dire invece che è probabilmente lo smartphone perfetto o comunque giusto per molti. che vi piaccia o no, so che questo canale è seguito da tante persone molto tecnologizzate, molto esperte alla fine, come magari siamo noi e sappiamo che magari allo stesso prezzo ci sono degli smartphone, delle prestazioni decisamente superiori, ma poi nel lungo periodo quando consigliate uno smartphone di quel tipo, se poi si guasta, se poi non riceve aggiornamenti, insomma Samsung si sta giocando bene alle sue carte, certo non è velocissimo e appunto non lo si compra per quello. Grazie per essere arrivati fino a qui, io vi invito nei commenti a farmi sapere cosa ne pensate di questo smartphone e questa nuova politica di aggiornamenti, per il resto se non l'avete mai fatto iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e ci vediamo a un prossimo video. Grazie per essere arrivati fino a qui, un saluto da Emanuele Cisotti per Smartworld.it. Grazie. Grazie.